Ci troviamo a casa in una condizione anche di non riuscire a essere ricollocate perché purtroppo abbiamo solo questa esperienza, un'età che compresa in linea di massima fa 40-50 anni, quindi donne, difficilmente ricollocabili. Quella di Mare e delle sue colleghe è una storia tutta italiana. Una banca fallisce, banca Etruria, un'altra arriva al suo posto, UbiBanca. Loro, 35 persone, rimangono fuori dalla trattativa sindacale perché sono dipendenti della Memar, azienda fornitrice di banca Etruria. Facevamo pratiche, dalle ricevute bancarie, alle deleghe di pagamento F24, F23, archiviazione, back office, professionalità di 20-30 anni, da un giorno all'altro completamente dimenticate. A distanza di oltre due anni dall'inizio di questa difficile vertenza, solo parole. L'avvertenza e la vicenda di Ubi, ex banca Etruria, che ha avuto risvolti occupazionali anche importanti, ovviamente ha avuto una priorità rispetto alla ricollocazione del personale della Memar. Noi abbiamo trovato rispetto a questo le porte chiuse, le porte sbarrate. Quando noi abbiamo chiesto un incontro anche con Fabi, di parlare dei nostri problemi... Avevamo le porte chiuse, non ci hanno... I sindacati vorrebbero sia Memar, ora acquisita da Mediatica, che Ubi, ad un tavolo in un incontro in prefettura. Chiediamo quindi all'istituzione di risollevare la situazione e di avere soprattutto chiarezza. Sperando appunto che le parole spese a suo tempo dall'altro prefetto portino di nuovo a qualcosa. Sperando appunto che le parole spese a suo tempo.